Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo MacBank un po' particolare. Allora, io voglio sapere se questa tipologia di video così vi piace. Cosa ho deciso di fare? Voglio fare... Allora, questo deve essere un video assaggio. Proprio ho pensato, hai ancora tutte le domande che devi rispondere, che ti hanno fatto e che l'altra volta non si riuscite a rispondere, quindi facciamo una cosa. Oltre a fare un video assaggio in cui proviamo alcune farine di BPR, voglio anche rispondervi alle vostre domande. Quindi qua vedete un po' di tutto, vedete un po' le gonads, perché se vi siete persi il video delle gonads ve lo lascio giù, giù nell'info box. E quindi ho deciso anche, visto che da quando le ho aperte le ho solo testate così, con il cucchiaino, ma mai provate tipo con i pancake. E poi a me andava di provare altre farine, raga, mi ispirano tutte. Infatti voi dici, no? Voi dite. Sì, ma tu te le ricordi i gusti? Sì, raga, perché qui avanti ho le farine predisposte come sono i pancake, quindi non vi preoccupate. C'è veramente un lungo lavoro dietro per fare i pancake, tanti cucchiaini, tante ciotole, tante forchette, un casino, ma non ci interessa. Come sempre io ho messo il timer perché, raga, altrimenti sapete la mia bella fortuna con la videocamera, con ogni mio Mac Bank. Allora, io inizierei proprio da lui. Allora, come sempre le farine le trovate sul sito di AllSupplement e io vi lascio il mio codice sconto che è Giulia010. Allora ragazzi, devo dirvi una cosa, che il mio codice sconto comunque vale sia sull'acquisto, ma in più accumulate un altro 10% al prossimo ordine. Quindi poi al prossimo ordine è come se invece di risparmiare un 10% risparmiate un 20% perché avete il coupon accumulato e bla bla bla. Quindi, volevo anche chiarire un po' questa cosa e vado ad assaggiare la prima, che è mandorlacchio. Non voglio far cascare niente perché queste confezioni sono un po' scopote. Comunque questa qui, BPR gusto mandorlacchio, usiamola. Allora, raga, il profumo mi fa impazzire. Io voglio assaggiare i miei gusti e poi vi rispondo alle domande, altrimenti qua andiamo un po' in confusione. Il profumo, raga, è troppo buono. Ho fatto i miei classici pancake. Assaggiamo. Allora, raga, tra tutte le farine al pistacchio, ve lo giuro, mandorlacchio, ma stiamo un po' là, questa è la più buona. Non sapete perché? Allora, non vi aspettate. Cioè, pensate che, raga, sono morbidissime. Io l'ho fatto solo con albume e latte, quindi per dirvi. Ho fatto tipo 40 grammi di farina d'avena, 60 di albume e 10 ml di latte. Comunque, raga, ve lo giuro che è troppo buono. Perché? Si sente il pistacchio, si sente però, non è che non si sente, ma molto lontano. Si sente la mandorla, ma è talmente delicato il gusto, che è super piacevole. Ovviamente dopo la proviamo con questo. Raga, assurdo. Buonissima, tra tutte le farine al pistacchio che ho provato, non è il pistacchio, ma è il mandorlacchio, vabbè. Devo dire la verità, che è troppo, troppo buona, ve lo giuro. Avevo i miei dubbi, ma invece no. Il mio voto, visto che è paracolato un po' tutto quello che ho provato, il mio voto è 7,5-8. Buonissimo, veramente buono. Allora, l'altro gusto che voglio assaggiare è, aspettate, vaniglia, eccolo qui, che a me ispira tantissimo. A parte che è un gusto molto, molto delicato. Madonna, non cadete. Aspettate, togliamo qua. Molto delicato. Sì, è lui. È un po' uguale. Cioè, raga, sembra che è uno stampino, sti, ma anche il coso è tutto uguale. Ti senti di vaniglia? Sembra di mangiare un uguale gusto alla vaniglia. Mmm. È buonissimo. Mmm. Ti state cercando? È troppo buono. Un gusto delicato, ma allo stesso tempo dolce, dovete prenderlo. Raga, sa proprio di vaniglia. È buonissimo. Troppo. Il mio voto è 9. Cioè, raga, è... Alzo le mani, se non sentite il rumore sulle porte, eh. Il mio voto è 8,5-9. Super buono. Veramente buono. Non è quel gusto scemo che dite, ma buon maniglia. Chi siamo? No. Buono, veramente buono. Ultimo. E poi ci spezziamo un po' quelle creme. È peanut butter. Cioè, raga, io sono... Cioè, raga, io qua sono fatto un casino su questa tovaglia. Io sono troppo curiosa di provarlo, quindi assaggiamo. Eccolo qui. Eccolo qui. Mmm. No. Non sa di burro da rapidi. Non so di cosa sa. No, non mi piace. Preferisco mandorlacchio bocciato. O è me deluso. Ma aspettavo da te. Raga, il mio voto è 5. Non mi piace. Tra i due, tra i gusti più particolari di questi tre, preferisco mandorlacchio. 100.000 volte. Peanut butter non mi piace, infatti ce l'avete visto. Però, ovviamente, dopo col topping. Quindi, io mentre faccio il topping, dividiamo qui, mettiamo questi qui, rispondo alle vostre domande. Quindi, raga, la mia classifica è mandorlacchio, vaniglia, e ho peanut butter. Buoni. Peanut butter un po' meno. Però il resto sono validissimi. Allora, mi piace questa tipologia? Fatemi sapere se anche a voi. Allora, allora, allora. Allora, Mariana, un bacione. Giulia, vorrei un consiglio. Prima mi allenavo con i workout di 30 minuti. E invece adesso vado a camminare. Per circa 40 minuti al giorno. Tu dici che va bene o era meglio con i workout? Un bacio sei meravigliosa. Allora, nel frattempo che rispondo, ovviamente, Mariana, sembra che è una barriera. Qua avanti. Nel frattempo che rispondo io, continuo. Allora, dipende dai workout. Perché se tu facevi comunque workout, facevi piegamenti, plank, che ne so, ti affondi. Comunque è diverso dalla passeggiata. Cioè, se tu dici, ok, io col workout brucio, che ne so, 200 calorie. Quella passeggiata mi faccio una passeggiata e sto ipotizzando. Brucio le stesse calorie. No, cioè, raga, sono completamente diversi. Perché è una cosa che camminate e è una cosa che comunque vi allenate anche se a corpo libero. Quindi, raga, c'è questa differenza tra le due cose. Camminare è diverso dall'allenarsi anche senza pesi. Anche, cioè, è completamente diverso. Ok, nel frattempo io ho risposto, ma non ho già fatto niente. Allora, ovviamente, pistacchio, questa mandorlacchia, mettiamo quella a pistacchio, ma io, raga, mi sono innamorata di questa crema al cocco. Cioè, raga, ve lo giuro, sembra di mangiare proprio uno yogurt a cocco. Ovviamente. Che bel pranzo, mamma mia, raga. Bello. Una super coccola. Questa la lasciamo qui. Ovviamente andiamo avanti anche con quella a pistacchio. Ah, mamma mia. E che profumino. Questa è troppo buona, raga. Cioè, nel senso, vabbè, già ve l'ho detto la cosa, ma è buona. Non è male. C'è proprio l'odore, mi piace. Voi sapete che io impazzisco per le cose a pistacchio. facciamo un pochino così. Vabbè, qua dopo pulisco. E l'ultimo, ovviamente, cocco. Ok. Mettiamole qui da parte, ne facciamo caree, perché altrimenti io muoio. Allora, poi, Fabiola, un bacione. I tuoi compagni di scuola sanno che hai un canale YouTube? Se sì, ti supportano? Sì, raga. Molti hanno anche attivati la campanella, quindi sì, mi supportano. C'è qualcosa che, tornando indietro, comunque un bacio anche a te, ma non hai il nome. C'è qualcosa che, tornando indietro, non rifaresti mai? C'è qualcosa che... C'è qualcosa che... è stata fatta e perché volevo, quindi è inutile vivere di rimpianti. Allora, questa è vaniglia con la crema al cocco. Assaggiamo. Cioè, raga, questa sa proprio di latte e cocco. Troppo buona. Sempre Fabiola. Sempre riguardante i tuoi compagni di scuola. Ti hanno mai preso in giro per il canale? No, raga, assolutamente no. Sofia, tornerà in palestra un bacione tesoro? Tornerà in palestra appena apre? Io non credo. Un bacione sei meravigliosa. Allora, raga, questa risposta perché non mi voglio perdere in chiacchiere anche in questo video perché già lo sapete, vi ho fatto proprio il video del video, lo scorso video MacBank che vi lascio giù nell'info box. Già vi ho risposto là, quindi andate lì perché lì c'è proprio la spiegazione proprio completa. Poi, quando hai iniziato ad avere i risultati fisici, comunque un bacione anche a te, Vanessa, ultimo pancake, questa altra parte. Questa è con la crema a pistacchio, sempre vaniglia. Mmm. Buono. Sì, raga, mi devo togliere da questa posizione altrimenti faccio a fila dell'altra volta. Allora, mmm. Raga, i risultati, vedete il cambiamento, ma i risultati li vedete un po' più là, nel senso che io partevo da una condizione da come ho sempre detto che ero molto, molto, molto magra, quindi ho visto il cambiamento del peso, vedevo che mi arrotondavo sempre di più, ma i risultati li sto vedendo e li ho incominciati a vedere. Aspettate, raga, cioè perché mi devo fare un attimo il resoconto 2019. Sì, 2019 adesso, ad oggi. Sì, 2019 già, sì, sì, già vedevo un po' il muscoletto più scolpito, 2019. Non ricordo il periodo, ma raga, non so che è 2019. Ho un canale YouTube ma non ho visibilità. Qualche consiglio? Allora, il consiglio che posso darti è quello di essere sempre te stessa, di non pensare, oddio, devo fare in tutti i modi, di riuscire a crescere, di, ok che è una cosa che uno gli viene anche, però fai sempre con il cuore, cerca di portare sempre bei contenuti, cerca di essere te stessa e poi il resto va da sé. Allora, mandorlacchio e pistacchio. Comunque, raga, anche le creme le trovate sul sito di AllSupplement. Allora, un bacione. Sei soddisfatto di quello che hai costruito? Sì, raga, tantissimo. Saberina, un bacione. Attrezzo, esercizio che ti manca di più fare in palestra, latte machine, leg extension, queste cose qua. Perché è quello che mi mancherà di più, perché poi se andate a vedere quel video, cioè, il resto tra poco ce l'avrò. Quindi, va bene così. Come fai i pancakes con la farina aromatizzata di Brogis? Farina, latte e albume. Come vi ho spiegato la ricetta in questo video, faccio sempre la stessa ricetta. Ok, qui c'è cosa? Della panella. pistacchioso. Stanno per riaprire le palestre. Tu pensi di andare? Io per ora non credo. La risposta è lì. Come ti sei avvicinata e appassionata alla palestra e poi al cibo e poi al cibo fitness. Io mi sono appassionata e poi ho sbagliato tutto e quindi, come ti dico sempre, prima non era passione ma era ossessione. e poi ho capito che qualcosa non andava. E così sono riuscita a dare una svolta alla mia vita e mi sono appassionata a questo mondo e ho scoperto un nuovo mondo che non c'è bisogno di mangiare sano, sempre pulito, verdura, pollo, broccoli, riso per definirti fitness. Perché poi anche, anzi ragazzi, è molto difficile ma chi ci riesce è troppo intrecciare due stili nel mondo fit e chiamiamolo il mondo fat. Riuscire di intrecciare tutto ma di mangiare con gusto anche la cosa più salutare al mondo ma cercare quella combinazione che vi fa dire mamma mia buono, buono, buono. io cerco sempre di fare così perché la parola che adesso spopola è che se non sei healthy se non sei sana non sei nessuno e no raga non è così ve lo dico io che non è così bisogna vedere anche oltre a queste cose poi qual è stata la più brutta figura che hai fatto in pubblico cadere raga figure questo da avere il resto se un giorno volessi iniziare un percorso di coaching online chi consideresti come approccio mi piace tantissimo benedetta si chiama così ma non ricordo come si chiama proprio la sua il suo nickname di Instagram ma benedetta io la amo benedetta squillante si raga così si chiama non mi veniva il cognome poi se ho detto una struttura ve lo scrivo qui ma non mi sembra io quando devo nominare qualcuno mi fa mi viene sempre l'ansia ve lo giuro perché ho paura di sbagliare ma non così si chiama ma lei mi piace tantissimo e poi è bellissima quindi lei poi andiamo avanti allora posiamo il piattino ok qui se cade io mi uccido allora peanut butter e cioccolato bianco e cocco io controllo perché tra poco si spegnerà tutto con la crema è un po' più buona in questi giorni di quarantena ho sempre voglia di schifezze consigli allora mamma mia i piedi miei mi stanno abbandonando questa posizione è scomodissima allora aspettate ragazzi io dopo qui le gambe non me le sentirò più allora sinceramente allora il mio consiglio il consiglio più grande che posso darti io avvicinato sto facendo un macello solo io è quello di cercare un compromisso cerca di non fare una dieta troppo restrittiva di non importi quello che devi fare quello che devi mangiare ma non lo so se voglia ti faccio un esempio se voglia di un kinder bueno mangiatelo perché è proprio quel kinder bueno come dico sempre che ti salva la vita perché prima di incorrere comunque a mangiarti mobili sedi e tutto quindi il mio consiglio è quello di fare così e ti faccio vedere come pian piano non ti verrà più sta cosa ma questo ti può insegnare anche ad ascoltarti un po' di più marica un bacione ti adoro il 25 apro le palestre ci andrai vabbè già lo sai già sai la mia risposta voi la trovate sempre in quel video francesca un bacione hai mai sentito del percorso di stefani buttermore buttermore se sti cosa ne pensi allora raga non so come si pronuncia ma il percorso sia allora praticamente io mi sono trovata in una situazione in cui io all'inizio l'ho scoperta perché lei faceva pure queste food challenge no all'improvviso non l'ho seguita più ma non è che non l'ho seguita più c'è me la continuavo a seguire specialmente su youtube e ho visto che non mettendo più video poi non è che sono andata a vedere però quando mi entravo e mi comparivo nella home io cliccavo e me li vedevo perché a parte che è bellissima era bellissima ed è bellissima oggi è bellissima proprio e ho visto questa cosa in realtà eh cioè vabbè sarà qualche photoshop ve lo giuro raga non me lo aspettavo però io non ho capito il motivo vi dico non ho capito il motivo perché non la capisco quando parla quindi non ho capito molto però se voi sapete di più vorrei sapere scrivetemelo giù nei commenti perché non lo so se ha avuto qualcosa o semplicemente si sentiva intrappolata in un corpo oppure non ce la faceva più perché raga lei aveva una condizione che io non so come cavolo faceva a mantenerla però adesso secondo me sta benissimo se lei prima se lei prima si amava anche prima anche prima ok ma se ha fatto questa scelta per vari motivi posso dire che ad oggi sta benissimo cioè raga veramente a parte che a parte che ok alcune volte ce l'ho vista gonfissima ce l'ho vista proprio gonfia però sicuramente starà facendo qualcosa e uno non cambia la sera per la mattina qualcosa è quindi io spero che è stata una scelta sua e non qualcosa di grave non saprei veramente quindi non vorrei dire però se adesso si ama e sta bene con se stessa va bene così per me è bellissima lo stesso è normale che all'inizio la vedete pure così perché comunque non è semplice costruire un'altra tipologia di fisico non è semplice però secondo me se lei continua così porterà una condizione fenomenale perché a parte che lei è proprio bella cioè non fisicamente ma proprio il viso lei è proprio bella proprio solare mi piace veramente mi piace anche se non ci capisco una mazza di quello che dice ma i suoi video mi piacciono a volte li apro anche così giusto per vedere lei quello che fa quello che poi dopo dico ok non ci ho già capito niente però va bene quindi non lo so se tu sai qualcosa che forse più di me capisci l'inglese scrivimi un po' giù perché poi allora pancake allora allora Alessandra un bacione se non potessi più mangiare niente se non tre cose quali sarebbero no raga ma perché mi mettete davanti queste scelte non lo so burri no sceglierei pollo pollo riso no no riso sì riso mi piace un po' tocco scus se direi comunque è una cosa completa raga ve lo giuro perché almeno riso pollo non lo so e pancake riso pollo e pancake però anche le verdure sono bene non lo so su tre quindi ho scelto questo ho scelto questo è un modello un idolo ne benedetta vabbè la prezzo per come mi piace tantissimo ma proprio un idolo no no mamma che tasso dolente vedo un gol aspettate allora come sta andando lo studio per la maturità io non ci sto capendo più niente diamoci la mano come mamma fa allora raga io sinceramente ho perso le speranze che questo esame di maturità non si fa più perché a fa si fa e ormai perché nessuno ci ascolta ma non siamo solo noi a lamentarci di questa maturità ma poi specialmente professori presidi c'era un caos assurdo sta succedendo ma ovviamente nessuno ci ascolta perché si sa no non abbiamo nessun potere alla fine se capito questo io sinceramente pure io sono andata in tilt ma ho capito di non ascoltare più niente perché più si ascolta più io vado in tilt quindi io mi sono fatto un mio programma si sa che si può parlerà tantissimo di cittadinanza e costituzione coid e progetto classe materia di indirizzo dobbiamo fare anche uno scritto di indirizzo poi l'italiano si deciderà una o che sia una poesia o cose del genere vabbè io mi sono fatta anche in piano B mi sto studiando pure altri argomenti di altre materie sto a buon punto pensate che mi mancano solo due materie e ho finito di studiare devo fare un powerpoint su alternanza queste cose qua però raga non mi posso lamentare perché sto a buon punto ormai è inutile andare in crisi perché è inutile veramente quello che ti consigliamo un po' a tutti di andare avanti per la nostra strada e quando più presto viene questo esame che così c'ho l'uammananza poi ti capita mai di paragonare il tuo fisico a quello di una tua amica o sorella no raga assolutamente no poi c'è quale scopo non lo so comunque no comunque ripeto più di tutto battere non mi piace lo studio per la maturità stai influenzando la tua alimentazione il tuo allenamento ti crea ansia no raga non mi crea ansia ma io non vedo l'ora che arriva per togliermi il pensiero mi sta creando sia alimentazione non tanto anzi forse sto mangiando un po' di meno però vabbè allenamento sì ci sono giorni che salto e mi riesco a allenare giusto due tre volte alla settimana non più di perché raga arrivo che veramente il pomeriggio con la testa fino alla mattina non connetto più l'unica cosa che voglio fare è guardarmi una serie tv ve lo giuro di mettermi sul letto perché mi sento proprio stanca ma non fisicamente ma psicologicamente cerco sempre nella giornata comunque sto un po' sedentaria però di restare attiva specialmente come si chiama cioè specialmente tipo mi metto un po' a camminare mi faccio quei 10.000 6.000 passi al giorno e almeno sto pure un po' tranquilla per non stare troppo seduta perché ogni tanto mi devo alzare perché già faccio ci vuoi hai avuto hai avuto dei momenti di tebolezza sul tuo corpo in cui non ti piaci sì raga l'ho avuto e penso che siano normali queste cose sono normali come hai fatto a scegliere la scuola superiore sei fantastica a parte perché non dista molto da casa mia e poi perché volevo un diploma finito solo per questo ultima domanda ciao come ti alimentavi nel primo periodo di massa che hai fatto quando dovevi perdere peso dovevi prendere peso intendo il periodo di ripresa dall'essere stata male quanti calorie distribuita come se vuoi parlarne non ho nessun problema lo sapete allora io all'inizio ovviamente partivo da mille calorie giornaliere sto proprio esagerando diciamo mille calorie giornaliere ho iniziato mese dopo mese mille e tre mille e sei aumentavo di trecento calorie per volta in base al mio peso vedevo che con mille e tre il mio peso niente ovviamente non lo avevo in una settimana facevo sempre quasi un mese oppure due tre settimane vedevo che il peso o diminuivo non riuscivo ad aumentare così poi ho iniziato ad aumentare i pan piano e ho riacquisito comunque il mio peso cioè oddio ho iniziato a mettere peso poi mi allenavo anche bene fino ad arrivare ad introdurre nel mese di settembre ottobre una cosa del genere sulle tre mila calorie sono stata in tre mila calorie per un po' e così ho ricominciato di nuovo a prendere peso perché vedevo che io non riuscivo a prendere più peso ma pure coltivo mille e sei duemila io di mia griglia non aumentavo e così ho detto no perché comunque mi allenavo molto stavo molto attiva nella giornata ho detto no basta a mezz'anno a mezz'anno sono arrivata a tre mila da tre mila ho cominciato a prendere peso ma raga non ho cominciato a prendere peso che tipo mi vedevo grasso mi vedevo no raga oh perché comunque continuavo ad allenarmi quindi vedevo proprio il muscolo che si iniziava a formare stavo bene sincera ovviamente non farò mai più una massa di tre mila calorie perché non mi serve proprio più adesso il mio periodo di massa stento sta sulle 2005 proprio esagerando e imparco a partire di macro non mi ricordo mi ricordo che avevo i carboidrati sui 300 e passa non ricordo ma così o così ho cominciato a prendere peso cioè ragazzi dovete prendere peso non avete paura di mangiare di mangiarvi la pasta di mangiare perché se non mi mangiate i carboidrati sono state a poche calorie ma che peso volete prendere non riuscirete mai a prendere peso poi ovviamente ho fatto anche le analisi tutte perfette anzi raga io quando mangiavo poco avevo le analisi da quando ho iniziato a mangiare mi si è stabilizzato tutto ovviamente dopo una settimana però iniziavo a stare bene e quindi niente no vabbè rispondo pure a Chiara un bacione ho integrato i ricusi in genere un bacione multivitaminico creatina e omega 3 stop vabbè e poi ogni tanto le proteine ok ultimo pancake fatemi sapere se questi video così vi piacciono e facciamo due in uno quindi niente raga io spero che questo video vi sia piaciuto e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao ciao